Ciao ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video Oggi come avrete letto nella Vanilla Hardcore Volevo cominciare a fare la prima stanza Prima di farlo vi ricordo sempre di iscrivervi e di lasciare un like a questo video Perché non so se farei meglio di fare gli obiettivi con gli like Ma aspettiamo un attimo Ma ora andiamo nella Vanilla Hardcore Allora, questa qua sarà il buco in cui comincerà tutta la casa Come avevo detto qualche video fa E quindi non so con cosa cominciare Ma meglio prima che scaviamo, non so, un 10x10 Boh, ora direi subito di scavare Ok ragazzi, ho fatto l'area della stanza Sarà un tipo 3, 6, 9, 10x10 Un 10x6 Lo so che non sembra abbastanza grave Ma per me abbastanza spazio Perché poi lo dovrò un po' ridurre Ma questo qua lascio stare E l'idea che mi era venuta in mente ora è di fare Per esempio qua i cartelli con Per esempio qua faccio la stanza da letto Poi qua faccio magazzino Di qua, che ne so, la stanza per fare i cavoli miei Qua, non so, qua sotto potrei fare un'altra roba Ma prima sono robe che farò in futuro Quindi non pensiamoci ora Però ora direi subito di Cominciare a fare il muro o il pavimento Ora andiamo Ok ragazzi, sono riuscito a fare la stanza La mia idea sarebbe stata di fare qua Si, non so, è venuta casissima Non ho guardato nessun tutorial Perché praticamente qua avevo fatto Quanto era 10x6 E visto che ho in mente di fare qua I lati con la legna Gli angoli con la legna E qua le entrate un 2x2 Faccio anche qua, metto due cartelli In cui c'è scritto che, insomma, magazzino Qua, che ci sarebbe Stanza degli incantesimi E tutte quelle altre cavolate Stanza da letto, da qualche parte Potrei essere anche qua, non so Raga Da me è tutto Il video finisce qua Lo so che dovrebbe essere durato un po' poco Ma chi se ne frega Perché forse poi nel prossimo episodio Andremo anche in caverna Perché Di ferro non ne ho proprio Non so più che dire Ciao Ciao Allora